Poco più di cent'anni fa si concludeva la più grande guerra mai vista, dove l'Italia fu tra le potenze vincitrici. Entra in guerra il 24 maggio 1915 a fianco di Francia, Inghilterra e Russia, firmando due giorni dopo l'importante patto di Londra. Vinta la guerra, il nostro paese otteneva importanti e da tempo agognati territori. L'Alto Adige, il Trentino, Gradisca, Trieste, l'intera penisola estriana fino al Golfo del Quarnaro, con le isole di Cherso e Lussino, le isole della Dalmazia, le città di Zara, Sebenico e Trau. 3 novembre 1915, ore 16.30, piovigina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. Un gigantesco ufficiale italiano di bella pancia e pizzo risorgimentale fieramente esibito varca la passerella del cacciatropediniere audace appena attrecato al Molo San Carlo. Batte lo scarpone sulla terraferma e proclama con voce altisonante. Prendo possesso della città per conto di sua ammestà re d'Italia. È il generale Carlo Petitti di Roreto. Ma facciamo un passo indietro e in un'intervista davvero impossibile, ma al tempo stesso unica e straordinaria incontriamo il generale Carlo in persona. Buongiorno generale. A più di cent'anni da quel fatidico giorno noi avremo piacere di rivolgerle alcune domande, ma procediamo con ordine. Le chiediamo innanzitutto di presentarsi. Con piacere. Nacqui a Torino il 18 dicembre del 1862. Mio padre, Giuseppe, apparteneva ad una famiglia nobile piemontese, originaria di Cherasco. Anche mia madre, Tomasina, faceva parte di una nobile casata del Cunense, l'Incisa di Camerana. Poi intrapresi la carriera militare nel 1880 e, a 18 anni, fu nominato sottotenente nel reggimento dei Granatieri di Sardegna. Poi nel 1896 sposei Annetta, Caponi, Trenca, che emite tre figli, Giuseppe, Ludovico e Carla. Vuole ricordare qualche episodio più significativo della sua carriera militare prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale? Certo. Nel 1912 partecipai, con il grado di colonnello, alla Guerra di Libia ed in seguito a una vittoria riportata sul campo, otteni la nomina di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia. Ricordo che quella dell'8 luglio fu un'ardita manovra che ebbe la meglio sulla canita resistenza turco-araba. Lo scoppio della Grande Guerra lo vide coprire un ruolo importante in momenti anche decisivi del conflitto. In quale occasioni? Ho dato il mio contributo in qualità di generale in diverse situazioni, ricorderei quelle più rappresentative, come quando mi misero a capo della 35esima divisione sull'altopiano di Asiago durante i giorni della Straff Expedition, appunto. Qui fu necessaria una notevole intelligenza militare, che peraltro mi fu riconosciuta anche dall'esercito francese, dal quale ottenni pure una nota di merito. Pochi mesi più tardi la mia divisione fu inviata in Macedonia, come richiesto dagli accordi con gli alleati della triplice intesa. Guidai 40.000 uomini sul fronte sudorientale e infliggemmo diverse sconfitte alle armate bulgaro-tedesche, per poi entrare nel 1916 nella città di Monastir, la vostra odierna bitola. Nel 1917 venne richiamato sul Carso e partecipò alle ultime tre battaglie dell'Isonzo. Cosa si ricorda di quell'esperienza? Cercammo di rallentare, e devo dire con successo, le truppe austro-germaniche dopo la disfatta di Caporetto. Per queste azioni fu insegnato di una medaglia d'argento, al valore militare. Poi il resto è storia. Nel giugno del 1918 guidai il ventitresimo corpo d'armata nella battaglia del Sorstizio e al termine fu nominato governatore di Trieste. E arriviamo così al 3 novembre 1918, una data speciale. Come la ricorda? Sì, il 3 novembre del 1918 sbarcai a Trieste con 20 carabinieri e due battaglioni di bersaglieri della classe 1899, con i quali abbiamo occupato la città, dove scorazzavano i delinquenti comuni liberati dalle prigioni e scendevano da ogni parte sbandati dell'esercito austro-ungarico. Ricordo che il cacciatore pediniero udace, ancora prima di approdare, viene fiancato da un motoscafo con a bordo Alfonso Valerio e il vicepresidente del comitato, il socialista Edmondo Puecker, che salirono a bordo per consegnare la città a noi, militari italiani. Ci descrive quel momento generale? Sulle rive si presentava una città sfinita, afflitta dalla fame e dall'epidemia di influenza spegnola, che consumava le sue ultime energie nell'attesa di noi italiani. I bersaglieri sfilarono di corsa in Piazza Grande. In qualità di governatore militare della regione Venezia Giulia Istria, presi possesso del palazzo della luogotenenza e parlai brevemente alla folla. Così il Molo San Carlo, sul quale eravamo prodati, fu ribattezzato Molo Udace, il ricordo di quel giorno così speciale nella storia del giovane Regno d'Italia. La guerra era quindi finita? Contemporaneamente, presso una villa non lontana da Padova, veniva firmato l'amistizio tra Italia e Austro-Ungheria. Il cessato di fuoco venne fissato per il giorno seguente, 4 novembre alle ore 15. Caro generale, nel comiatarci, lasciamo la parola per chiudere il nostro incontro con un'ultima sua riflessione. Mi sento onorato e fortunato per essere stato testimone e in piccola parte protagonista di un pezzo di storia così importante per il nostro paese. Fortunato rispetto ai milioni di soldati che hanno dato la vita per questa giusta causa e non sono riusciti a gioire di quel 4 novembre 1918. La liberazione di una nazione, la liberazione di una città, purtroppo non ancora l'ultima. La liberazione di una città, purtroppo non ancora lontana da Padova, veniva firmato la lontana da Padova, veniva firmato la città, purtroppo non ancora lontana da Padova, veniva firmato la